Erano in 4-5 con il volto coperto da un passamontagna a bordo di un fuoristrada Toyota, risultato rubato a Carovigno. Hanno agito intorno alle 21.30, proprio mentre la banda era intenta a mettere a segno il colpo. Grazie al sistema di videosorveglianza, le guardie giurate della Fidelpol sono riuscite ad accorgersi del furto in atto e ad inviare sul posto una pattuglia. Presi quindi con le mani nel sacco, i malviventi hanno rinunciato ai cavi di rame e alle lastre dei pannelli fotovoltaici che avevano preso di mira in una campagna incontrata a Gamasha, a Noa, frazione di Galatina e sono saliti immediatamente a bordo del mezzo. Da qui l'inseguimento per le campagne finché il loro fuoristrada è entrato nel canale del fiume Asso, dove poi si è impantanato e la banda è uscita dal mezzo attraverso i finestrimi per poi dileguarsi a piedi. Sul caso indagano i carabinieri della locale stazione della compagnia di Gallipoli che hanno provveduto a sequestrare il mezzo. Le indagini sono al momento concentrate nell'area nord leccese e nel Brindisino.